Iniziamo con le risposte scomode, sì, quello è appositamente lì, c'è scritto attiva Windows per chi non l'avesse letto, giuro che ho Linux sul fisso. Comunque, niente, mi chiamo Marco Amato, ho cofondato un collettivo, ci occupiamo di divulgazione, che si chiama Etica Digitale, le tematiche le potete immaginare, e sono appassionato di videogiochi da quando avevo circa 13 anni, ho iniziato a sviluppare su questo programma che si chiama RPG Maker XP e poi da lì è stato un po' un viaggio, insomma. Ora, cose noiose su di me a parte, oggi vi vorrei parlare di, questa è una presentazione che è già stata fatta, qualche persona sono abbastanza sicuro l'abbia già vista, comunque, mi spiace, di videogiochi, come si diceva prima giustamente, ma prima di arrivare a parlare di videogiochi nel mondo del software libero, c'è bisogno, a mio avviso, per capire questa prospettiva di fare un passo indietro. E questo passo indietro riguarda i videogiochi, chiamiamoli proprietari. Quella che vedete qui in alto è la miniatura di un video pubblicato da questo canale di YouTube chiamato People Make Games, che è un canale inglese che si occupa, britannico, che si occupa principalmente di inchiesta per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. In questo caso, in questo video, che è solo una delle due parti, muovono una critica all'azienda di Roblox, che per chi non lo sapesse è un videogioco simile a Minecraft, se vogliamo, diciamo, semplificare il discorso. E cosa ci dice? Questo gioco è famosissimo. Beh, intanto scoprono in questo video che sfrutta il lavoro minorile promettendo dei soldi facili. Premetto che poi troverete tutte le fonti in fondo e il file sta liberamente su internet. Questa azienda dice di non avere abbastanza soldi per pagare di più quando l'amministratore delegato è miliardario. Ci sono stati casi di molessie interne nella comunità di chi sviluppa che sono stati ignorati dai vertici. Favorisce il gioco d'azzardo. Ricordo che è un videogioco principalmente per bambina, ragazzina e quindi la scienza ci dice che chi sviluppa delle patologie, delle ludopatie insomma durante l'adolescenza sarà molto più difficile debellarle rispetto a chi le sviluppa in età adulta. Sono bambine. Nel 2021, per farvi capire quanto è grossa, ha guadagnato più di Nintendo. Penso che io non vi debba spiegare cosa sia Nintendo. Altro video fatto sempre dal medesimo canale invece riguarda Steam, che è un negozio essenzialmente dove comprare o scaricare videogiochi, che spiega come Steam stimoli anch'esso il gioco d'azzardo. Oppure spostandoci da chi gioca a chi lavora che crea questi giochi, Cyberpunk 2077, che è un titolo che è stato sviluppato qualche anno fa, praticamente ha fatto quella cosa che in gergo tecnico e in inglese viene chiamata crunch, mi piace renderla in italiano compressa, ovvero il tuo tempo, le tue ore, tutte le tue energie devono essere appunto pressate per cercare di buttare fuori il prodotto il prima possibile. Sono state fatte delle promesse dalla parte della dirigenza che sì sì il gioco resce o resce e un sacco di impiegati sono state sfruttate per far uscire questo gioco che è comunque tardato ad uscire. Poi si può parlare di videogiochi anche in ambito geopolitico. Questa è la miniatura di un articolo che avevamo scritto con Etica Digitale, dove essenzialmente andava a dimostrare quale può essere l'impatto che un paese come la Cina ha anche sull'Occidente con titoli come, non so se si vede, ma c'è tipo Clash of Clans e Overwatch lì in mezzo. Ovviamente sono di parte, ma vi consiglio la lettura per approfondire il tema. Quindi cosa succede? Beh, la gente ha una certa, alcune persone perlomeno iniziano a dire ok ma basta, perché anche basta insomma. Gente sfruttata, bambini che sviluppano ludopatie, sfruttamento, anche da parte della comunità o cose geopolitiche insomma, impatti geopolitici. Bene, e allora come si può iniziare a dire di no a queste cose, a questo mondo aziendale proprietario, aziendale in generale? Beh, c'è una strada interna che è quella della sindacalizzazione, per esempio c'è Game Workers Unite che è anche un dipartimento qui in Italia, seppur abbastanza piccolo, oppure Tech Workers Coalition che invece si occupa in generale dei diritti delle persone che lavorano in ambito tecnologico, non per forza chi programma, ma anche magari chi traduce per i programmi o chi, non so, lavora nei magazzini di Amazon. E poi c'è un'altra strada che è quella esterna, ovvero l'iniziare a dire basta, il rifiutarsi di supportare certe realtà. Questa immagine, questa cattura che vedete lì sotto, insomma, è presa da questa campagna che era stata lanciata sul videogioco Overwatch, o meglio contro chi ha sviluppato il videogioco Overwatch, stiamo parlando di Activision Blizzard, la quale dopo un torneo di un suo videogioco molto famoso di carte chiamato Hearthstone, decise di squalificare il campione mondiale, perché quando fu intervistato i due intervistatori chiesero se avesse qualcosa da aggiungere, e fu in quel momento che l'intervistato, il vincitore, diciamo, proclamò, urlò, esclamò l'inno della rivoluzione di Hong Kong, perché il giocatore era ed è hongkonghino e questo equivalse a vedere il monte premi sottratto dal giocatore, i due intervistatori licenziati e quindi internet fece scoppiare un putiferio. Alla fine poi il premio gli è stato ridato e vabbè, comunque più o meno si è anche risolta, il punto è che l'internet, questa cosa eteria magica, ha iniziato a dire no, noi non ci stiamo, perché poi in quei mesi appunto quando la Cina stava schiacciando Hong Kong e penso che io non vi debba spiegare come è andata a finire. Ma c'è anche una terza strada, che è quella di ricostruire, nel senso sì ok, il mondo lì fuori fa schifo sotto questo punto di vista, bla bla bla, benissimo, va benissimo combattere dall'interno, va benissimo combattere dall'esterno, ma bisogna tenere in conto che dato che parliamo di software, di programmi, qualcosa che non è tangibile nel mondo reale, che non ha bisogno, non so, al contrario di un libro di tanti alberi tirati giù per stampare, inchiostro eccetera, per essere moltiplicato, beh, allora possiamo anche cercare di ricostruire alcuni di questi titoli in modo che non appartengano più, non rispondano più a certe dinamiche. Ovviamente dobbiamo capire cosa vogliamo ricostruire, questo è un'immagine presa da un videogioco chiamato Apex Legends e da persona che ha lavorato, seppur brevemente, nell'industria, cercare di ricostruire qualcosa del genere è un lavoro immenso, anche solo a livello pubblicitario, quindi cerchiamo poi di essere persone realiste. Tuttavia ci sono titoli che stanno già da anni e anni ricostruendo, questo è Veloren, per esempio, veloren.net per chi vuole approfondire, è un gioco di ruolo online, tutte queste entità che vedete sono persone in carne e ossa connesse, è un gioco vox, è un gioco cubettoso, cubi molto più piccoli rispetto a quello di Minecraft, ed è appunto un gioco di ruolo, quindi le missioni, i mostri, bla bla bla. Se non vi dovesse piacere il genere, tuttavia abbiamo per esempio sparatutto alla vecchia scuola come gli FPS Arena, essenzialmente, questo è Zonotic, Zonotic con la X, e .org, che è tipo Quake, ma contemporaneo, ve lo consiglio vivamente. Se non vi dovesse piacere neanche questi tipi di giochi, beh, ci sono i giochi ritmici, quello che vedete qua è Eterna, che è tipo Guitar Hero, insomma, dovete usare la tastiera, o se avete la pedana, beh, divertitevi con la pedana. E questo ci porta, diciamo, all'inizio vero e proprio di questa presentazione, ovvero, ok, cerchiamo di capire cosa si può ricostruire e perché dovremmo farlo. E la presentazione verte sul perché dovremmo ricostruire Minecraft. Beh, vediamo qualche dato. Allora, qualche anno fa, ormai, è stata introdotta questo nuovo aggiornamento su Minecraft, dove essenzialmente, questa è proprio una cattura del loro annuncio, dicono che le chat sarebbero state monitorate da Microsoft e che chiunque avrebbe potuto segnalare dei messaggi in chat che sarebbero poi arrivate in chiaro a Microsoft insieme a un po' di contesto, quindi messaggi prima e messaggi dopo, per decidere se sospendere il profilo dell'utente o meno. E, beh, come l'ha presa la comunità, considerando che questo si applica anche su server privati? Questo è il commento con più voti su Reddit, che traduco, ma vabbè, dice il mio server, le mie regole, punto, tenete la vostra censura molto molto lontana dal mio server. Il secondo commento per voti, invece, dice abbiamo già la capacità di bandire giocatori, giocatrici, per qualsiasi ragione, noi vogliamo, statene fuori. Vediamo altri motivi. Per chi non lo sapesse, questo dato ci dice che Minecraft è il gioco più venduto in assoluto nella storia dei videogiochi, con 238 milioni di copie vendute. Ma, c'è un ma. Quel dato, se poi si va a vedere la fonte che è citata anche sopra Wikipedia, da dove ho preso poi questa immagine, è che il dato del 2021, quindi più di due anni fa, perché era maggio, aprile 2021, e che non tiene in conto di tutte le copie piratate di questo gioco a cubetti, che sono tantissime, ve lo dico per esperienza, sono davvero davvero tante. E cosa ci dice poi questo rapporto che è stato emanato da Microsoft stessa? Beh, ci dice che è il videogioco anche più visto su YouTube nel 2020, con più di 200 miliardi di visualizzazioni, che in Europa e in America del Nord più del 50% della bambina tra i 9 e gli 11 anni gioca a Minecraft, e che l'età della giocatore media, passatemi il linguaggio inclusivo, è di 27 anni. Quindi abbiamo un bacino d'utenza, di età, anzi, che va da i 9 a, boh, facciamo i 40. È un gioco letteralmente per tutta la famiglia, ci potrebbe giocare mia nonna anche, per dire, e forse si diverterebbe anche. Quindi è il gioco che ha più impatto in assoluto nei videogiochi che abbiamo conosciuto nella storia dei videogiochi. Torno un attimo indietro, Tetris, che è stato campione assoluto per anni e anni, sta al terzo posto. E ci sono tante versioni di Tetris in giro, ci sono dei tornei mondiali che vengono fatti da anni, con nuove generazioni che partecipano. E quindi questo ci porta a Mindtest, vero e proprio. Ovvero, questo che vedete non è Minecraft, bensì è Mindtest. Logo e nome probabilmente temporaneo, ma ci arriviamo tra un attimo. E la prima cosa che ci viene chiesta è... Ah, premetto, faccio parte dell'organizzazione di Mindtest. Se Mindtest è un clone di Minecraft. La risposta è nì, nel senso è nato come clone più di dieci anni fa, ma poi nel corso del tempo è virato da essere un gioco a un motore di gioco, quindi a un programma che serve per fare videogiochi. E permette di fare cose come Minecraft, ma permette di fare anche tanto altro. L'autore originale semplicemente non si aspettava un successo simile o l'avrebbe chiamato diversamente. E a tal proposito aggiungo che proprio in questi mesi l'organizzazione sta discutendo di rinominare, aggiungo finalmente, il programma in modo che smettono di farci giustamente questa domanda. Quindi tra un paio di mesetti, immagino, si saprà qualcosa e inizieremo eventualmente a rinominare il tutto. Comunque, niente, questa è semplicemente una locandina che se volete poi comunque ne ho a pacchi, in verità, che era stata fatta per promuovere Mindtest. C'è anche un retro che spiega poi tutti i dettagli. E niente, essenzialmente stiamo parlando ovviamente di software libero. Cosa permette di fare questo programma? Beh, intanto, come anche Minecraft e altri giochi, dare spazio alla creatività. Queste immagini che voi vedete sotto, vediamo tipo, suppongo sia, non so, delle renne e un drago sulla destra, non sono contenuti che ci sono di base, perché è un motore di gioco, non è un gioco, non è come Minecraft per intenderci che io mi connetto e so che devo arrangiarmi già di base con quello che mi offre il gioco. Di base non c'è niente, c'è un generatore di mondi, tutte cose tecniche sì, ma di visivo spetta a chi crea poi i giochi darci vita. Potete aggiungere delle interfacce, al contrario di Minecraft essenzialmente, a meno che, vabbè, lasciamo stare a un discorso lungo. Comunque, potete personalizzare le interfacce, dicevo questo è un esempio di un inventario, ma l'inventario non deve essere per forza così e soprattutto nulla ci dice che, nulla toglie che il gioco potrebbe non avere un inventario. Poi a livello un po' più smanettone, ecco, mi piace sempre fare questa domanda, quante persone qui per alzata di mano sanno programmare in Java? Ok. Quante persone che hanno alzato la mano vorrebbero tipo, vedrebbero Java come primo linguaggio di programmazione per un bambino per apprendere come si programma? Perfetto, come voleva sì ogni volta dimostrare. Le cose, al contrario di Minecraft, dove è principalmente Java, le cose si fanno in Lua, che è un linguaggio simile Python, se vogliamo, fatto per lo più per creare modifiche, le famose mod, e beh, è molto semplice creare per esempio un blocco, come potete vedere lì sulla vostra destra, perché sono quattro righe di codice. Togliete le parentesi, diventano tre. E c'è una guida stata tradotta interamente dal sottoscritto, è essenzialmente la guida ufficiale che vi spiega passo passo, come potete creare nuovi contenuti senza insomma dover sbattere la testa contro un file in markdown di 7000 righe e 500, penso. Poi una cosa che a me piace molto in quanto studente di lingue è che ogni lingua è importante, nel senso che quello che vedete qua sotto sono due immagini, io ho aperto la stessa versione di Mintest sul PC e sono connesso nello stesso server, quei due omini stanno uno di fianco all'altro, magari non si nota troppo. E come potete vedere, qui il messaggio è in inglese, dice waiting for more players, però dall'altra parte, quindi sono sullo stesso server, mi dice esperando mas fugadores. Quindi è possibile geolocalizzare in modo che chiunque, se la lingua ovviamente è supportata, possa giocare senza dover per forza sapere l'inglese, perché i dati ci dicono, almeno quelli Android, che la maggior parte, circa il 60%, se non erro, delle persone che scaricano Mintest dal Play Store non lo usano in inglese e non vuol dire che sappiano a forza di cose l'inglese, soprattutto se andiamo nei paesi più asiatici. Inoltre, quando create un contenuto, il contenuto può essere un gioco, può essere una mod, può essere un pacchetto di texture, come in questo ultimo caso, e c'è un negozio, tra virgolette, perché è tutto gratuito, anzi, libero sarebbe la parola più corretta, dove potete andarvi a scaricare un po' tutto quello che volete. Ma non dovete per forza andare sul sito, scaricare lo zip, bla bla bla, no, qua non ho fatto la cattura, ma molto semplicemente, quando voi aprite Mintest, c'è una sezione chiamata contenuti, e da lì potete scaricare direttamente questi contenuti che vengono installati in automatico, senza dover passare per il sito e, insomma, smanettarci. Quindi una cosa, a mio avviso, molto, molto, molto comoda. E una cosa forse ancora più comoda, che è uno dei motivi per cui andare a vedere comunque questi pacchetti sul sito, è che c'è un sistema di recensioni. Io posso giudicare sì, ni o no un qualcosa e, tra l'altro, non so se si legge, però le persone possono poi dire se quella recensione è stata utile o meno, un po' come si fa su Steam, essenzialmente. Questo permette, insomma, ai contenuti migliori, tramite un sistema di punteggi, di finire più in alto, così che le persone che scaricano Mintest per la prima volta non si ritrovano davanti cose a caso, ma in teoria i contenuti più curati. Cosa permette di fare? Finiamo lato Mintest. Beh, ovviamente, essendo software libero, anche la comunità in sé è aperta, ci potete trovare pressoché ovunque. Io vi consiglio sempre di trovarci... ok. Ok, vado super rapido allora. Sommate, vabbè, conoscete questi spazi, quindi andiamo avanti. Come siamo organizzati? Molto semplicemente ci sono riunioni pubbliche ogni due settimane su IRC, c'è un blog mensile che trovate sul sito e abbiamo una tabella di marcia che viene rivista ogni circa due anni. Per esempio, ora ci stiamo concentrando sulla grafica perché quello che è ora è proposta di quello che vorrebbe essere poi in futuro. Cosa si può fare con Mintest? Vado molto veloce, a quanto pare. Questo è il nostro server, cioè il nostro, nel senso mio, è di altra gente italiana, che si chiama AS ed è un server minigiochi dove potete anche sbloccare contenuti. Anche noi usufruiamo di modelli personalizzati come questo leggio che vedete. Interfacce personalizzate, questo per esempio è prima di entrare in una partita di un minigioco. E cosa siamo? Essenzialmente, beh, non siamo un'azienda, non sfruttiamo nessuno, mettiamo quello che piaccia a noi, sperando che piaccia anche le altre persone, non vogliamo assolutamente mettere gioco d'azzardo, le abilità le valutiamo sulle capacità della persona e non tramite quello che pagano, il famoso pay to win, il paga e vinci, chiamatelo come volete. E ovviamente tutto il contenuto che c'è è software libero, non c'è niente che gira di proprietario. Chiudo. Come supportarci? Beh, essenzialmente avete quattro opzioni, venite a trovarci perché il server comunque è lì, disponibile, vi basta scaricare Mindtest e c'è la lista server. Scrivete AES, magia, ci trovate. Sforgete la voce perché ovviamente queste cose funzionano meglio se più persone ci giocano. Contribuite al codice se ne siete in grado perché abbiamo più di 1100 segnalazioni è una marea. e se volete rendere più leggera la vita di studenti universitari essenzialmente quello vi porta al nostro LibraPay. Quello che avete sentito ora, essenzialmente la parte di critica è se vi interessa più quella vi consiglio di seguire eticadigitale.org, Mindtest è il motore di gioco in sé, se volete approfondire invece il nostro server il terzo e il quarto invece è uno spazio che abbiamo creato su Matrix. Finisco davvero perché lo so che mi stanno linciando con lo sguardo. A proposito abbiamo un torneo tra l'altro che si tirerà il 15 di questo mese con KS che sono della streamer italiana e quindi abbiamo ancora due spazi disponibili per chi si volesse iscrivere, uno sparatutto, venitevi a divertire, non si vincono soldi, ci si diverte, c'è una telecronaca in italiano, quindi dai. E ultima cosa, infatti come vedete ci mancano due posti, ultima cosa ci sarà anche, troverete Mindtest in questo evento, ringrazio Ilsa e in particolare Ilsa Este, ciao l'obbius, il 23 settembre dove appunto si farà un torneo con vari giochi tra cui Mindtest a Este. Io ho finito, la mia voce anche e grazie per l'ascolto. Grazie Azuki, però se qualcuno ha delle domande sul progetto, Davide. Sì, ho visto che è molto customizzabile il vostro gioco, mi viene in mente che avete criticato magari altri software per il discorso del pagamento o comunque del cercare di trattenere le persone all'interno. Però nella libertà di customizzazione, ad esempio, potrebbe essere permesso di caricare delle texture con dei query code che magari sono microtransazioni per valuta interna. Le bloccheresti in questo caso? Non mi occupo io di quella parte, però è una buona domanda. Allora ci sono... Ci arrivo? Qui su content.mindtest.net ci sono delle etichette che vengono messe, tipo non so se si contiene per esempio il linguaggio scurrile, un po' quello tipo il peggi che c'era per i videogiochi. Per esempio su Android il linguaggio scurrile eccetera non viene mostrato di base perché sappiamo comunque che su Android l'età è più bassa rispetto a chi gioca magari da computer. Non so rispondere con esattezza e al massimo posso dire cosa ne penso io. Secondo me le valute interne in generale, poi dipende sempre anche da come viene implementata, non puoi bandire completamente qualcosa anche perché io posso benissimo fare la mod e non metterla qua sopra. Quindi lì il problema diventerebbe della moderazione del server. Abbiamo avuto un processo della moderazione della lista pubblica dei server. Abbiamo avuto un caso simile quando un server che si arriva semplicemente a minare crypto per NFT è stato lì per anche un bel po', l'abbiamo lasciato morire per conto suo, abbiamo optato per non fare niente e magicamente è morto per conto suo dopo qualche mese, dopo che la gente ha capito che li stavano a troffare essenzialmente. Però non saprei rispondere a livello dell'organizzazione su questo. Però è possibile farlo, come su qualsiasi motore di gioco posso farlo anche qui sopra.